Quando andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e Donne, a rivelarlo è stato Davide Maggio che poco fa ha aggiornato tutti con l'ultimo giorno di programmazione per il programma di Maria De Filippi. Se pochi giorni fa si parlava del 5 di giugno, oggi la data dell'ultima puntata è invece il 9 di giugno. Sì, è un po' insolito che Uomini e Donne termini di martedì, ma è già successo in passato. Naturalmente non andrà in onda martedì 2 giugno, giorno di festa. Al suo posto ci sarà la sop turca Le Ali del Sogno, con il bellissimo attore Kanyaman. Tuttavia, nelle ultime ore c'è stato un colpo di scena. La domanda fatidica sulla fine del programma è stata fatta a Raffaella Mennoia, autrice di punta e braccio destro di Maria De Filippi. Molte trasmissioni hanno deciso di posticipare la loro chiusura estiva per continuare a fare compagnia al pubblico. La conclusione annuale di Uomini e Donne è come ogni anno fissata per l'ultima settimana di maggio. O state pensando di continuare a fare compagnia ai telespettatori ancora per un po'? È stato chiesto alla Mennoia nell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. E la risposta stupito, perché non ha confermato quanto detto da Davide Maggio. Per il momento non posso ancora dirvi nulla, non è stato deciso se sarà posticipato o si concluderà in modo tradizionale, ha dichiarato Raffaella, facendo così sperare schiere di fan. Ma alcune anticipazioni rivelano che Uomini e Donne è stato posticipato di qualche giorno, perché proprio dall'8 giugno si dovrebbe entrare nella fase 3 del coronavirus, e quindi sarebbe possibile un contatto senza mascherina tra i partecipanti. Insomma, Maria vuole chiudere con il botto, e quindi con la scelta di Giovanna e con la possibilità per Sirius di baciare Gemma. E lui lo farà? Ci sarà questo fatidico bacio? Cosa ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.